Ben trovati con una nuova edizione del telegiornale di Telecattolica. È cominciata bene la raccolta fondi per le feste patronali di Lucera 2018, raccolti finora a quasi 16.000 euro. Sentiamo. Il Comitato Feste Patronali Lucera 2018, tramite un comunicato, ha reso noto che per i festeggiamenti in onore di Santa Maria Patrona, a due mesi dall'apertura ufficiale della sede per la raccolta delle offerte, è stata raggiunta la somma di 15.780 euro, di cui poco più di 2.000 della scorsa gestione. Vogliamo ringraziare quanti finora hanno contribuito, secondo le proprie disponibilità, alla realizzazione delle tradizionali feste patronali lucerine, ha dichiarato il Presidente del Comitato, Mario Di Gennaro. Siamo convinti che la città di Lucera continuerà a rispondere positivamente, perché Lucera è e sarà sempre la città di Santa Maria. Per questo motivo invitiamo a continuare a donare. Ogni offerta è fondamentale per la buona riuscita delle feste, ha ribadito il Presidente del Comitato. Come partecipare alle offerte? O è possibile recarsi direttamente presso la sede del Comitato Feste Patronali di Lucera, in Piazza Duomo 15, Sala Giorgio Lapira, o tramite conto corrente bancario intestato a Comitato Feste Patronali di Lucera, o tramite conto corrente postale intestato a Diocesi Lucera Troia, Ufficio Cancelleria Causale Profeste Patronali. A Lucera è stato inaugurato un centro Alzheimer per ospitare pazienti che soffrono di questo morbo, offrendo loro terapie non farmacologiche. I dettagli nel servizio. È stato inaugurato a Lucera il centro diurno non farmacologico per pazienti affetti da morbo di Alzheimer, nato a Lucera in Piazza San Giacomo grazie alla cooperativa sociale Ollus Keres, presieduta da Mario Ricotta. Il centro, il Tempio dei Ricordi, appena inaugurato, ha l'obiettivo di dare una risposta concreta ai sempre più complessi bisogni assistenziali, assicurando alla persona una condizione di vita il più possibile dignitosa. mediante la promozione e il sostegno dell'autonomia, evitando, quando più possibile, situazioni di immaginazione sociale e di allontanamento dal proprio contesto familiare. I dati diffusi dalla Federazione Alzheimer Italia parlano chiaro. Nel nostro paese oltre 1.200.000 persone sono affette da questo morbo. In provincia di Foggia si superano i 5.000 casi. Il centro di urno, grazie allo studio del professor Cilesi, pedagogista e psicoterapeuta specializzato in terapie per le cosiddette malattie sociali, ha inserito all'interno l'utilizzo di terapie non farmacologiche che consistono nell'impiego di tecniche utili a rallentare il declino cognitivo e funzionale, controllare i disturbi del comportamento e compensare le disabilità causate dalla malattia, favorendo sensibili diminuzioni del carico farmacologico che viene somministrato al paziente. Finanziati oltre 2,3 milioni di euro di contributi per rafforzare le attività in 16 laboratori urbani, con una dote di 150.000 euro ciascuno per Biccari, San Nicandro Garganico e Troia, per quanto riguarda la provincia di Foggia, Barletta nella Bat e altri comuni delle province di Bari, Lecce e Taranto. Con questa nuova edizione si mobilitano più di 2 milioni di euro, attingendo alla subazione 9.14 del POFESL 2014-2020, dedicata agli interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con azioni di animazione sociale e partecipazione giovanile, ha spiegato l'assessore regionale Raffaele Piemontese. In tutto salgono 66 laboratori urbani che a partire dal 2016 sono stati finanziati per potenziarne gli spazi esistenti allo scopo di favorire attività di inclusione sociale. Un'azione delle politiche giovanili pugliesi che è stata destinataria di importanti riconoscimenti nazionali ed europei. Per la rassegna Musicalis Downia, organizzata dagli amici della musica Paesiello di Lucera, in cattedrale si è tenuto un concerto per organo con il maestro Francesco Di Lernia. Vediamo le immagini. Musicalis Downia, progetto della 35esima stagione concertistica organizzata dall'Associazione Amici della Musica di Lucera, ha proposto un evento di particolare rilievo culturale con un concerto per organo nella cattedrale di Lucera. Nell'ambito degli appuntamenti d'oltresala e a ingresso gratuito, la Basilica Cattedrale Lucerina ha ospitato una serata dedicata al maestoso strumento suonato per l'occasione dal maestro Francesco Di Lernia, organista dall'importante carriera internazionale in Nord Europa come in Asia, già direttore del Conservatorio Umberto Giordano di Foggia, dove attualmente insegna. Di Lernia aveva già suonato l'organo della trecentesca Basilica Lucerina nell'ottobre del 2017, nella cerimonia di restituzione dello strumento dopo cinque anni di restauro. L'organo della cattedrale fu costruito dalla ditta Carlo Veggezzi Bossi di Torino nel 1899. Francesco Di Lernia ha proposto un programma che ha spaziato dal barocco al romanticismo. Il miglior primo sommelier del Nero di Troia è Molisano, il servizio. È Molisano il primo miglior sommelier del Nero di Troia, il professionista che è riuscito a conquistare il titolo tra 18 sommelier provenienti da diverse regioni d'Italia, dimostrando la conoscenza approfondita di uno dei vitigni maggiormente in ascesa di Puglia. La manifestazione organizzata a Margherita di Savoia dall'associazione italiana Sommeli e Puglia ha preso il via con la prima prova scritta con domande sulla storia del vitigno, il suo sviluppo storico, le caratteristiche enologiche, le aziende e i personaggi che lo hanno portato alla fama per continuare fino alla prova pratica di servizio dei vini alla presenza della giuria che ha decretato l'ambasciatore del Nero di Troia. Momento di approfondimento nel convegno sul vitigno a cui hanno preso parte tra gli altri rappresentanti dei consorsi di tutela Vinicast del Monte Doc e del tavoliere Nero di Troia Doc a suggellare la giornata la degustazione aperta al pubblico, una festa del Nero di Troia nella quale tutte le etichette presenti sono state raccontate dai sommelier AIS e proposte in abbinamento a piatti e prodotti della terra di Puglia. Sport per la Sport 2000 di Lucera si è conclusa la lunghissima stagione di tennis tavolo con la ciliegina sulla torta del titolo di campione regionale di Roberto Abate nella categoria ragazzi, una categoria in cui parterre si è presentato agguerrito e molto preparato. Da ricordare anche il terzo posto in Serie D1 a squadra, il quinto posto di Claudio Di Carlo agli italiani di Terni per la società lucerina è attesa una nuova stagione, si spera ancora più ricca di soddisfazioni. Il dirigente sportivo Giuseppe Di Carlo intanto ringrazia tutti i giocatori, genitori e l'allenatrice Rossella Scardegno per l'ottima stagione disputata. Chiudiamo con un appuntamento, terzo appuntamento con le passeggiate sotto le stelle ideate nell'ambito del progetto SAC Tratturarte Alto Tavoliere, passeggiate culturali che invitano a scoprire e a gustare lentamente il fascino nascosto di alcuni luoghi dell'Alto Tavoliere attraverso itinerari inediti rivolti sia a turisti che a cittadini. Martedì 26 giugno a partire dalle 20.15 si svolgerà a San Severo la visita evento e quindi uscimmo a rivedere le stelle sotto il cielo di San Severo. E con questo appuntamento si chiude questa edizione del telegiornale di Telecattolica. Grazie per l'attenzione e vi lasciamo al meteo. Arrivederci.